Musica Si protraggono i lavori a Piazza Abbro, la viabilità a doppio senso, a Via Le Crispi i commercianti iniziano a lamentare qualche disagio, anzi continuano a lamentare qualche disagio. Vediamo cosa ne pensano. Tanti problemi, soprattutto la sosta delle macchine qua perché logicamente quando ci sono le macchine il cliente che viene da noi e non trova il posto libero passa, se ne va via e quindi non si può fermare. Bisogna al più presto trovare una soluzione perché noi qua stiamo dalla mattina fino alla sera che ci guardiamo in faccia. Siamo un po' rovinati da quando sono iniziati i lavori perché dall'anno scorso i lavori in un anno già non si è fatto niente perché le persone qua non sono proprio più passate neanche a pieti. Noi pensiamo specialmente che una buona parte dei commercianti qui dietro pensa che ci vorrebbe il senso unico soprattutto perché ci vorrebbero più stalli. A Via Le Crispi ci hanno penalizzato ancora di più perché avendo il mercato coperto qua chiuso tutta la clientela che avevamo qua alle spalle di Via Le Crispi dato che deve andare a fare il giro a lungo abbiamo perso anche quei clienti là. Di quanto è stato il calo delle vendite? A noi qua il calo è stato di oltre del 50%. Non c'è stata organizzazione anche per i parcheggi, per i clienti e questo vogliamo dire al sindaco sperando che questo nuovo salito al titolo penso che cambierà le cose e ci aiuterà un po' a tutti. E' una cosa che non si può più andare avanti così dovrebbero capirlo lì al comune perché noi paghiamo le tasse e se non incassiamo le tasse c'è difficile pagarle non perché non vogliamo ma perché c'è proprio difficile pagarle. Ci avevano promesso che al termine dei lavori sarebbe tornato tutto come prima però purtroppo noi non sappiamo niente chiediamo a chi chiediamo non ci danno risposte. La situazione è che è speciale la vendita che non si può fare per me macchina. Fiamme sul Monte Saro nella frazione di Episcopio a Sarno. Un vasto incendio nella serata di ieri proprio lungo le pendici della montagna che il 5 maggio del 1998 franò a valle. Le lingue di fuoco si sono estese in pochi minuti nella zona dove si trovano le opere immesse in sicurezza post alluvione. A pochi metri dalla vasca di contenimento delle acque reflue e dai reggi lagni. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, gli uomini del locale commissariato di polizia di Stato ed i carabinieri della locale stazione. L'incendio potrebbe avere avuto origine dorosa. Bruciano ancora purtroppo le montagne distruggendo ettari di vegetazione. Resta alto l'allarme per i bovini vaganti, un'emergenza che da tempo attanaglia in particolare le colline orientali cavesi. Nelle ultime settimane il fenomeno sta assumendo nuovamente dimensioni preoccupanti. Mandre di mucche allo Stato Brado, infatti, hanno letteralmente cinto d'assedio le frazioni della Maddalena, Croce, Alessia, San Pietro, la località Petrellosa e Sant'Anna. I cittadini sono esasperati e chiedono a gran voce interventi delle autorità competenti per debellare definitivamente il problema che ormai si trascina da molti anni. A portare l'attenzione del Consiglio Comunale e l'annosa questione è stato il consigliere Vincenzo Lamberti. Il fenomeno sta ritornando sul territorio. Non era stato completamente eliminato, ma fortemente ridimensionato. Io ho invitato l'amministrazione comunale, il sindaco e innanzitutto l'amministrazione comunale tutta ad attivarsi per affrontare questa problematica e anche a chiedere la convocazione di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che affronti questa problematica. Negli anni abbiamo più volte tenuto riunioni a Salerno, in prefettura, quindi ci sono stati vari tavoli del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Abbiamo stilato un protocollo operativo con l'ASL, di intese operativo con l'ASL del servizio veterinario e abbiamo individuato una ditta affinché fornisse il servizio di stalla di sosta regolarmente registrata. Questo servizio lo abbiamo tenuto fino ad alcuni mesi fa, adesso non abbiamo più la disponibilità di questa stalla di sosta per cui ho invitato l'amministrazione ad attivarsi, ad individuare una stalla di sosta perché quando procederemo, quando procederanno alla cattura degli animali vaganti c'è bisogno di una stalla di sosta regolarmente registrata dove ricoverare questi animali prima dell'eventuale abbattimento. Perché nel momento in cui gli animali risultano di un proprietario, quindi sono tracciabili, identificabili, da questo punto di vista possono essere richiesti dal proprietario con il pagamento della sanzione prevista che è di 500 euro, altrimenti purtroppo vanno abbattuti.